La teologia cattolica in ambito cristologico La teologia cattolica in ambito cristologico La teologia cattolica in ambito cristologico Allora anche dal punto di vista dell'approfondimento proprio del dogma cattolico diciamo c'è l'idea che si debba scavare di più in questa cosa per imparare cose di Dio invece di guardare soltanto in alto nelle nostre fantasie metafisiche guardare Gesù e dire lui fa questo dunque Dio si comporta così. Ecco questo scavo mi sembra altrettanto interessante. In che misura la figura di Gesù Cristo può essere un punto di riferimento per un rinnovato dialogo ecumenico fra la Chiesa Cattolica e le altre confessioni cristiane? Deve essere un punto di riferimento e credo che il senso della domanda è questo. Se mai il problema è cosa togliere nel senso è potuto capitare che appunto le preoccupazioni anche legittime anche pratiche diciamo delle Chiese, del governo delle Chiese, del modo di formulare da parte delle Chiese il loro annuncio, la loro predicazione, la loro preghiera potessero qualche volta diciamo oscurare un po' prevalere un po' su questo essenziale punto d'incontro. Dunque un ecumenismo che dice vediamo noi siamo cattolici voi siete protestanti voi siete cerchiamo di vedere cosa abbiamo in comune cosa giustissima ma non bisogna dimenticarsi che prima di tutto c'è che cosa abbiamo in comune con Gesù e che cosa a partire dal legame di Gesù sicuramente noi dobbiamo condividere. Questa mi sembra la vera svolta cristologica. Si riscontra oggi un rinnovato interesse per la figura storica di Gesù di Nazareth su questo tema si moltiplicano pubblicazioni dalle caratteristiche un po' contrastanti si va dall'apologia pietista ad un nuovo processo di demitizzazione come valuta questo fenomeno? male qui la risposta per me è semplice cioè non credo che sia un interesse per la storia di Gesù è un interesse appunto come dire per qualche lato spettacolare per qualche curiosità magari persino ben intenzionata ma comunque molto fantasiosa. diciamo siamo un po' come nella chiesa del secondo secolo in cui si perde un po' la rotta e nell'eccitazione dell'incontro fra le culture tutti vanno a indagare per dire ma forse è successo anche questo ma forse Gesù era è una ricerca del Gesù storico dei forse che diciamo bene che vada sono molto frivoli. un'ultima domanda il Cristo cantato nella liturgia riflette il Cristo della fede o esiste una carenza teologica nei testi degli inni sacri? la domanda chiederebbe forse di pronunciarsi un po' sul concetto di inni sacri oggi forse è un po' difficile sintetizzare tutta l'espressione musicale vocale della preghiera della liturgia in un solo genere ecco dico questo perché diciamo una certa diversificazione che però c'è sempre stata nella storia della musica anche liturgica una certa diversificazione dei temi delle occasioni delle condizioni della preghiera è anche legittima è forse anche inevitabile dal punto di vista sì ecco della cristologia potrei rifarmi alla prima domanda che lei mi ha fatto e dire questo forse diciamo non è che sia sbagliato ma un po' leggera è la produzione che riguarda appunto Gesù la figura di Gesù il mistero centrale di Gesù qualche volta un po' sentimentale un po' narrativa un po' evocativa uno dice beh si inventa un affetto magari anche giusto e dice ecco Gesù è questo per me questo per me questo per me qui in questo senso invece riandare al racconto di Gesù sia pure trasfigurato poi in forma poetica come deve essere un canto ma riandare al racconto di Gesù non per prendere soltanto un gesto un tratto uno sguardo ma per recuperare il senso di questo mistero una volta la grande teologia diceva c'è una teologia nei misteri della vita di Gesù non sono solo gli episodi della vita ma il mistero che c'è dentro in certi momenti della vita di Gesù questo è un po' carente questo io direi applichiamoci di più ragazzi è che qui c'è qualche cosa di profondo da tirare ancora fuori diciamo che ha la sua poesia ma che può essere anche un po' meno sentimentale un po' meno leggero di come è adesso grazie a tutti